Salve a tutti Xnerd, sono Eddie Loki e sono qui per parlarvi di Doctor Sleep. Quindi facciamo la recensione del film che è la trasposizione dell'omonimo romanzo di King. E sì, magari nella parte no spoiler parleremo un po' anche dei testi, di qualche pensiero che sto facendo ultimamente, visto che sono in pieno periodo King. Sto leggendo un sacco delle sue opere, alcune le sto proprio leggendo da zero, altre le sto ripassando perché le avevo già lette. Insomma, diciamo che è un periodo molto King per me. È la prima volta che riesco a vedere un film a un orario decente, perché l'ho visto nel pomeriggio e ora sono le nove e mezza, quindi sono anche più lucida del solito. E vi ricordo che le mie recensioni sono nella prima parte, no spoiler, dal minutaggio che c'è nel titolo in poi ci saranno poi i spoiler che potrebbero disturbare chi non ha ancora visto il film. Quindi per ora possono rimanere tutti. Poi vi avverto anche qui in video quando dovrete scappare. Partiamo dal presupposto che io non sono mai stata un amante di King, ve l'ho sempre detto, mi dispiace, a me certe opere possono piacere, tipo i racconti mi piacciono un sacco. Mi è piaciuto molto anche Pezzemeter, vi lascio lì la recensione del film, il film non tanto, però il romanzo mi è piaciuto tantissimo. Potete trovare la recensione su giulierre.com, la scheda libro se non sbaglio. Ecco, quello mi era piaciuto tanto, però Shining lo sto leggendo ultimamente e all'inizio non mi aveva preso tanto, o meglio, io l'avevo già letto, quindi questa è una rilettura, perché non so per quale motivo mi fermo nei libri di King molto spesso a due passi dal finale, quindi l'ho ricominciato per riuscire a leggere effettivamente il finale di Shining. E devo dire la verità, fino a metà testo, non lo so, io sono un po' capra e non mi è piaciuto più di tanto. Poi dopo, in grana, ci sono cose che mi sono piaciute, cose che non mi sono piaciute, probabilmente vi farò un video su Giulierre, che è il mio secondo canale dove faccio recensione di libri, fumetti, eccetera. Vi lascio lì un video, magari quello di It, dove vi consiglio come intraprendere la lettura di questo testo. E dicevo lì, probabilmente farò una recensione in video, barra, parlerò della questione, per esempio, tra trasposizione del film al cinema e la diatriba che c'è stata tra King e Kubrick, perché voi sapete che Doctor Sleep è il secondo film, barra secondo testo, di quello che è effettivamente la saga di Shining, quindi c'è Shining, la luccicanza, e poi dopo c'è Doctor Sleep. E effettivamente, all'epoca, King non aveva apprezzato come Kubrick aveva portato Shining al cinema, ma a me era piaciuto molto più la trasposizione di Kubrick che il testo, il nove, stavo dicendo, beh sì, il testo di King e è la prima volta e forse l'ultima che mi sentirete dire che preferisco il film al libro, davvero, forse è l'ultima. Quindi diciamo che io ero un po' prevenuta, perché partiamo dal presupposto che il primo era di Kubrick e ho letto, visto cose che non vorrei sui social del tipo perché non ha fatto Kubrick il secondo, per chi non lo sapesse, Kubrick è morto, credo, nel 99, quindi magari per quello. Però dico che comunque il primo fatto da Kubrick e l'altro sarebbe stato fatto da un altro, credo Flanagan, una cosa del genere, io non sapevo ancora chi era il regista, ma già in testa mi suonava il campanello d'allarme, tipo, non è il caso, non ha troppi anni di distanza, qua si cade nel trash, faranno un horror moderno, mio Dio no. No, parto prevenuta perché comunque appunto mi piaceva il primo e perché non sono una grandissima amante di King e non avevo letto il testo. Tuttora mi manca quel testo che recupererò grazie a questo film che mi è piaciuto, mi è intrattenuta e diciamo ho letto da poco Shining, che per alcune cose mi è piaciuto e per altre no. Quindi diciamo che partivo già prevenuta, quello lo devo dire, mi dicevo nella testa che era un flop o era un top e secondo me per una serie di motivazioni sarebbe stato un flop, però poi mi sono giunti all'orecchio chi faceva parte del cast barra chi era il regista. Flanagan, credo si dica così, scusate la mia pronuncia che può essere sbagliata, comunque dovrebbe essere il regista, se non sbaglio, di Hill House e del gioco di Geralt. Allora il gioco di Geralt lungi da me volerne parlare perché non mi piace la trasposizione e non mi piace proprio neanche il testo, quindi è inutile che ne discuta, è un gusto personale. Mentre Hill House è un testo della Jackson, se non sbaglio, che mi è piaciuto tantissimo e la sua trasposizione in serie tv è stata una delle mie serie tv preferite, quindi ma diamogli un po' di fiducia a quest'uomo. E poi c'è Ewan McGregor, quello che io ricorderò sempre con Notting Hill, che faceva il protagonista, Dan Torrance, che poteva essere Danny in Shining e qua invece è Dan perché è cresciuto. Questo si vede già effettivamente dal trailer, come dal trailer si vede la presenza di elementi di Shining. Quindi diciamo che dicevo, ma, ma, però magari qualche scena vecchia ce la mettono, qualche cosina che può legarsi al primo film ce lo mettono, bisogna vedere come girano poi il resto. Cioè sarà una cosa completamente diversa? Ci sta una cosa completamente diversa? Forse sì, perché i tempi sono cambiati. Io vi consiglio di andarlo a vedere al cinema perché secondo me è un film che va supportato e a me è piaciuto tantissimo, nonostante io fossi proprio prevenuta. Perché effettivamente, intanto partiamo dal presupposto che nel panorama dell'horror, dove ultimamente sono uscite delle robe che, a parte, vabbè, qualcosa che può essere già un po' più interessante, vi lascio lì magari l'ultimo che è Dark Story, Tutely in the Dark. No, non è proprio così, deve essere Scary Story, a Scary Story Tutely in the Dark. Ecco. Comunque, ce ne sono tanti altri nel canale, scorrete i video e troverete recensioni dove uccido malissimo alcuni horror, tipo Isobel, ecco, questo ve lo lascio, che è una recensione villain perché era indecente. Quindi nel panorama dell'horror trovarsi un film che ha senso, per una volta che ha senso, è già tanta roba per me. Trovo che sia stato veramente bello il modo in cui è stato portato sul grande schermo. Ripeto, non conosco Doctor Sleep perché non l'ho letto, però mi hanno detto che uno è molto fedele al romanzo, quindi anche lì parlare di spoiler, non spoiler, se avete letto il romanzo di spoiler ce li avete già. Io non lo so, non ve lo posso garantire questo, però amici che l'hanno letto hanno detto, guarda, è effettivamente molto, molto fedele ed è effettivamente molto interessante. Non è lento, non ci sono scene particolari dove ci si incaglia e si deve dire, oh che palle, vai avanti. Che è già tanto perché è un film di due ore e mezzo, quindi già quando si passa sopra le due ore bisogna essere veramente bravi perché sennò non passano più. Io non ho mai sentito comunque la pesantezza all'interno di questo film. Mi ha interessato molto la storia che l'ho trovata molto bella per molte questioni. È strano perché vi ripeto, io e King abbiamo questo amore e odio, ma la storia di per sé l'ho trovata veramente bella. Ora non so dirvi se a livello cinematografico può rendere più del libro, perché alcune persone mi hanno detto, ma guarda che il libro era una pizza. Non l'ho letto, non ve lo so dire, però a livello cinematografico secondo me ci stava un sacco. Era realizzato bene, c'era anche questa atmosfera che ricordava molto Shining proprio, anche rispetto ad alcuni colori, cioè si era in due filoni temporali diversi, perché se non sbaglio all'inizio c'è appunto un filone temporale di lui più piccolo, poi cresce. Vediamo tipo il 2011, il 2019, una roba del genere. Comunque vediamo due anni abbastanza lontani tra di loro e all'inizio c'è questo color correction, questo colore che ricorda molto il primo Shining e piano piano, che se avviciniamo ai tempi nostri, cambia. Mi è piaciuto molto alcuni espedienti che immagino facciano parte proprio del romanzo in sé e la storia, ripeto, aveva senso. Dall'inizio alla fine non era pesante, era interessante e rivediamo comunque molte cose del primo capitolo della saga. Saga, credo sia finita in questi due, quindi non si può dire proprio saga, ma avete capito. Qui abbiamo una delle trasposizioni migliori, secondo me, di King. Va bene, qualcuno dice che It, e se non l'avete visto ho fatto la recensione qui della parte 2, che It di per se sia già molto, cioè, fedele barra ben realizzata. Ora, fedele, diciamo, ben realizzata forse sì, fedele, ok. Questa versione funziona, funziona. Non so dirvi se funziona come per me funzionava quella di Kubrick di Shining, però è effettivamente un bel film. Davide Game Over, il mio fidanzato, diceva che secondo lui non fa tanta paura, però questa è una cosa molto soggettiva, perché sento gente che dice che è terrorizzata a morte da King, a me non ha mai spaventato manco una mezza volta, però magari nei racconti mi piacevano, mi piaceva come scriveva, per esempio. Lo trovavo molto, molto ben scritto, trovavo che i racconti fossero anche immediati e quindi efficaci, però sì, effettivamente non ho mai avuto paura. È un bellissimo film, che secondo me vale la pena di andarla a vedere al cinema, che riprende parti del primo, ma si discosta, perché è normale. Il regista intanto è un altro, non potevamo chiedergli di fare un film alla Kubrick lui, che è un'altra persona. Poteva omaggiare il film, cosa che ha fatto, perché ha ripreso comunque anche scene dell'originale, ha comunque fatto vedere cose legate appunto al film di Shining e ha tenuto un'atmosfera all'inizio che è più vicina a quella di Shining di quella che ho sentito alla fine. Però vi ripeto, queste sono solo mie opinioni, quindi è una recensione che comunque pecca del fatto che io non sono, non ho studiato cinema e quindi vi dico solo quello che penso. Comunque penso sia una recensione a tutti gli effetti. Per una volta abbiamo una copiata di testo e regista, quindi trasposizione, che parte da un soggetto interessante, perché comunque il soggetto è di King, e che viene trasposto molto bene secondo me. Ed è una copiata vincente, perché è bella la storia e è bella come la vedi. Quindi secondo me è veramente un bel film, soprattutto nel filone horror è uno di quelli che mi è piaciuto di più quest'anno insieme a Midsommar. Non sono la stessa cosa, non sono neanche avvicinabili, però come gusto personale diciamo che quest'anno forse è secondo solo a Midsommar. Quindi sì, a me è piaciuto. Poi, vabbè, ci saranno anche quelli che magari non gli è piaciuto il romanzo, non gli piacerà il film, o magari gli è piaciuto il romanzo e non gli piace il film. La mia opinione è che leggerò il romanzo solo per capire la differenza rispetto al film e, credetemi, non credo avrei letto Doctor Sleep senza aver visto questo film, quindi aver avuto la possibilità di capire di che storia si parli, anche perché io ne ho sentito parlare praticamente solo male. Quindi, non lo so. A me è piaciuto e ve lo consiglio. Da adesso in poi scappate perché ci sono gli spoiler. Poca roba, veramente poca roba, perché comunque gran parte di quello che volevo dire, l'ho detto nella parte di un spoiler, comunque fuggite nel dubbio, se non volete anticipazioni. Mi è piaciuto molto il modo in cui il protagonista è stato portato in scena da McGregor, che secondo me è stato veramente, veramente molto bravo. Mi è piaciuto molto il personaggio di Dan, Danny se volete, non mi era particolarmente dispiaciuto neanche in Shining, però qui si vede un avanzamento. Trovo molto interessante che il personaggio di Dan sia nella stessa dinamica che è quella poi del padre e del nonno, perché se voi avete letto Shining, Jack non era, Jack Torrance non era l'unico che peccava di alcuni difetti psicologici dovuti a alcolismo e dovuti anche a un'instabilità. Una cosa che dicevo ultimamente vedendo Shining, nel film proprio di Shining si vede un attore incredibile che porta un personaggio che fin da subito risulta inquietante. Mentre all'interno del testo secondo me c'è una pazzia che in qualche modo l'isolamento e i giochi di mente peggiorano. L'hotel non è così pregnante all'interno del testo secondo me, cioè non è, non dico che non è paranormale, però non è che cambi completamente Jack. È una persona che ha dei problemi che peggiorano in maniera quasi realistica, mentre il film chiaramente è più quello di Kubrick, è più esagerato, è più estremo e secondo me per quello è anche molto più efficace. Però vi ricordo che nel testo di Shining si parla del nonno di Dan, che adesso mi sfugge, comunque il padre di Jack, che all'inizio era l'eroe di Jack, ma che durante la sua vita iniziò a diventare un po' il mostro, un infermiere che però tornava a casa ubriaco e picchiava la moglie, picchiava i figli, i figli sono tutti scappati perché uno è andato in guerra e poi è morto, l'altro è andato via perché non voleva rimanere lì. Insomma, poi alla fine quest'uomo è morto e ha lasciato un'eredità alla famiglia per la sua assicurazione. Però Jack ce lo descrive come una persona che aveva la mano facile che picchiava la gente, mi ricordo la scena di quando lui con un bastone picchia la moglie fino a quasi ucciderla, vi rendete conto che è una cosa che sembra ripetersi, sembra ripetersi in una maniera differente perché Jack già nel testo di Shining si vede che tutto deriva da una cosa che ha fatto appunto a suo figlio a Danny, che non vogliono andare più di tanto. Però questa cosa gli causa dei sensi di colpa e questa cosa è stata causata dall'alcolismo e anche secondo me da spinte caratteriali che King ci dipinge dalle prime pagine far parte di Jack, quindi non è una personcina a modo, è una persona che già ha qualche disturbo mentale e che l'alcolismo peggiora. Invece all'interno del film di Kubrick, lo vediamo proprio molto strong, cioè è un personaggio quasi inquietante da subito, che a me è piaciuto veramente tanto. Qua Danny, o Den come volete, è in una dinamica che è simile e diversa perché anche lui è dentro l'alcolismo, anche lui prova i sensi di colpa. Vediamo la scena in cui vede quella donna col bambino che ha lasciato lì, insomma, che gli appare perché lì c'è di mezzo la luccicanza, che vi prego nel testo quando leggete scritto Aura, metteteci una croce mentale, non scrivete sui libri, non si fa, e è la luccicanza, non è l'Aura. Però nell'edizione Bonpiani di Shining vi viene detta che è Aura, cosa terribile. Ripeto, lui ha questo potere, non solo lui, lo sappiamo già da Shining che non è l'unico ad avere questo potere, e questo potere non è solo una telepatia, è molto di più, è contatto con i morti, eccetera. Quindi un potere che è importante, che è fulcro di questo secondo film e che lo collega ad altre persone. C'è l'alcolismo dietro, sì, e si sente anche nel discorso che fa riguardo al padre, ma c'è una voglia di uscirne che è anche dovuta a un carattere diverso, secondo me. Cioè c'è un portato dietro che è quello appunto di aver visto già questa cosa dal padre. Anche Jack aveva visto questa cosa dal padre, ma non era uscito forse perché l'isolamento aveva peggiorato il tutto e l'hotel aveva peggiorato il tutto. Ma Dan invece, a differenza di Jack che ha Hal, che gli porge una mano e gli dice dai ti aiuto, e invece se volete in un certo senso peggiora la psicosi di Jack, qua la mano che viene data a Dan è una mano che lo porta fuori dall'alcolismo. E noi non vediamo questa cosa. Vediamo otto anni dopo e via. E fa un discorso anche riguardo al suo padre. Bellissima la scena in cui si vede il padre all'interno dell'hotel, che riprende quella in Kubrick, Shining di Kubrick, dove per esempio Jack parla con quello che era il, che è un maggiordomo in un gran ballo, che è il vecchio custode, il custode precedente, che gli dice questa gente deve essere, bisogna punirle, le bambine vanno punite, se mia moglie ci si mette in mezzo va punita anche lei, io li ho puniti. Puniti. Ma non riesco a parlare. Molto bella questa scena. È interessante tutta questa serie di relazioni vedere il personaggio di Dan che è molto diverso. Non abbiamo sentito la tensione della lotta nell'alcolismo, secondo me. L'abbiamo sentita solo in una scena dove lancia una bottiglia, che però può essere anche evocativa. E vediamo subito che un personaggio diverso, che ha gli stessi sensi di colpa del padre, perché anche il padre aveva sensi di colpa, almeno nel romanzo soprattutto. E all'interno del film, in quella scena che vi dicevo dei fantasmi, cioè dei due morti della donna col bambino, si vede che comunque lui ha questo senso di colpa, che secondo me è stato anche perno insieme alla mano che gli è stata porta per uscire da questa situazione, che l'ha spinto a salvarsi. Ed è bellissimo il rapporto che ha con questa bambina che ha la luccicanza. Ora, devo dire la verità, loro sono OP da bestia, quindi non so se è così anche nel romanzo o meno. Il loro rapporto mi sembra interessante. Ma forse quello che ha catalizzato di più la mia attenzione è il gruppo del nodo, fondamentalmente. Di cui, perdonatemi, sappiamo poco e nulla. Non che sia così necessario, però sì, c'è il nodo, boh, della serie, vuoi sapere di più, vai sul romanzo. Che però non è proprio così. È chiaro che due ore e mezzo, cioè, sono tante, quindi non è che potevano parlare un quarto d'ora in più per spiegare cos'era il nodo. Diciamo solo che si lascia aperta la possibilità che ci siano altre persone con la luccicanza. E' bella la scena iniziale dove c'è Danny che parla con... adesso Alloran? No, non mi ricordo chi è il personaggio, comunque l'uomo che gli dà la scatola, eccetera. Molto bella la dinamica, tra l'altro, della scatola dove chiude i mostri, che in realtà fa parte di un'iconografia horror. Perché ci sono queste scatole dove si chiudevano i demoni, quindi in realtà è una roba che a livello di folklore può anche esistere, o comunque è esistita nei racconti di molti. Sappiamo che King prende molto dal folklore. Non so se fa parte o meno del testo, però è una scelta interessante. Vi dico anche che, dicevo, il nodo per me è stato tanto. Perché la scena in cui rapiscono il bambino vestito da... che è uscito da una partita di baseball, quindi vestito con la tuta da baseball, e gli fanno del male per prendere il suo vapore, è veramente molto forte, secondo me. Cioè io ho fatto quasi fatica perché era veramente una scena interessante che faceva vedere fondamentalmente loro che si nutrono e lo fanno a discapito degli altri simili, tra l'altro. Quindi niente di strano, gli esseri umani lo fanno da una vita, cioè fare proprio interessi sopra gli altri, e questo è una versione al top di quello che facciamo normalmente noi come esseri umani. La cosa che mi ha lasciato un po' me, interessante il potere della ragazza bionda che si vede all'inizio più o meno che trasformano, però mi viene sempre da chiedermi e... cioè quella ragazza lì è servita per uccidere un personaggio, punto. Tutto il resto non ci frega niente. Bello perché effettivamente c'è questa che è molto OP e può convincer gente a far cose dal niente, hanno fatto bene forse a presentarla, però è servita a poco e niente. La cosa che forse mi è piaciuta di più di tutti è vedere l'Overlook Hotel ancora una volta, però diciamo che lì sai già che Dan in qualche modo non esci, quindi il cuore è già pesante. Non ho ben capito la scena in cui l'hotel prende il corpo di Dan, in qualche modo, però non so se è proprio parte del libro o meno. In ogni caso mi è piaciuto rivedere l'hotel, quello sicuramente, e ha fatto un grande effetto, come all'inizio ha fatto un grande effetto vedere Danny sul triciclo che va in giro davanti a una stanza da 237 che adesso mi farò scolpire 237 da mettere fuori, così il postino si confonderà e darà la posta a qualcun altro, quindi meglio di no. Mi è piaciuto, il mio fidanzato si è chiesto fino all'ultimo perché Dan non sia uscito, secondo me perché aveva dentro l'hotel, c'è lo spirito dell'hotel che era il generatore di mostri fondamentale, quindi ucciso quello gli altri magari ci sono perché abbiamo visto quel cavolo di mostro della donna morta nella vasca da bagno che c'è sempre, veramente come il prezzemolo ce lo troviamo ovunque e nessuno poi se la fila, cioè hai fatto paura nel primo film? Basta, cioè sia Danny da piccolo sia la ragazzina di questo film alla fine l'hanno sconfitta con le scatole. Però abbiamo visto che Dan non è uscito, nonostante rimanga come fantasma, come il padre di quella bambina, poverino, un personaggio inutile, morto, malissimo. Quindi questo film si pone senza stereotipi secondo me, o quasi privo perché comunque è una buona e solida base di partenza, cosa che manca la maggior parte degli horror, un buon modo di trasporlo in un mezzo che è diverso da quello del romanzo e quindi in automatico deve avere dei focus differenti e la cosa funziona secondo me? Sarà anche che il mio giudizio è dovuto al fatto che avevo basse aspettative, che di solito non mi piace King e questo mi è piaciuto e che comunque il regista di Hill House non era male? Non lo so, a me è piaciuto, quindi ve lo extra consiglio, andatelo a vedere, in caso siate qua probabilmente l'avete già visto, fatemi sapere nei commenti, ditemi cosa mi sono persa, ditemi perché sicuramente io mi sarò persa qualcosa, datemi qualche idea di punto di riflessione eccetera, se avete letto il romanzo consigliatemi o sconsigliatemi di leggere, insomma ci vediamo nei commenti con il vostro parere, vi leggo tutti. E niente gente, la recensione è finita, andate in pace, ma prima lasciate like se il video vi è piaciuto, commentate facendomi sapere la vostra opinione, io vi leggo tutti, a meno che non mi arrivi la notifica, allora portate pazienza, YouTube è quello che è, infatti questo vi stavo dicendo, iscrivetevi con anche la campanella, che già senza, cioè senza la campanella non vi arrivano le notifiche, con la campanella ve ne arrivano poche, ma è meglio che niente, e condividete il video se volete aiutarmi, in modo che arrivi a più persone possibile, questo aiuta sempre tantissimo, e stalkeratemi assolutamente sui miei social, vi ricordo il trattino basso Bifrost che è quello di Instagram del canale, poi c'è Giuliarra Official Page che è il mio Instagram, Giuliarra è il mio canale secondario, trovate tutto in descrizione con anche il canale Telegram dove parliamo, spoiler e lo spoiler dei film, tanto gli spoiler si riescono a nascondere, e niente gente, grazie di essere stati con me e ci vediamo alla prossima recensione, bye gente!